il camaleonte l'ispettore di polizia o ciumeloff in un pastrano nuovo e con un involto in mano attraversa la piazza del mercato lo segue a gravi passi un gendarme con una cesta colma di uva spina sequestrata intorno tutto è silenzio sulla piazza non c'è anima viva le porte aperte delle botteghe guardano il mondo di dio scorate come fauci affamate nei loro pressi non ci sono neppure mendicanti e così vuoi mordere maledetto sente ad un tratto ciumeloff ragazzi non lo lasciate ora non è permesso di mordere tienilo si sente il guaito di un cane o ciumeloff si volge da una parte e vede che dal deposito di legname del mercante picciugin corre un cane saltellando su tre gambe e guardandosi intorno un uomo in camicia di cotonina a colori inamidata e col panciotto sbottonato gli dà la caccia gli corre dietro e piegandosi con tutto il corpo in avanti cade a terra e acchiappa il cane per le zampe di dietro si sente per la seconda volta il guaito del cane e il grido non lo lasciate dalle botteghe si sporgono dei visi assonnati e ben presto intorno al deposito di legname come venuta fuori dalla terra si raccoglie una piccola folla c'è qualche disordine vostra nobiltà dice il gendarme o ciumeloff fa un mezzo giro a sinistra e marcia verso l'assembramento proprio vicino alla porta del deposito egli vede l'uomo sopradescritto col panciotto sbottonato che sollevando la mano destra mostra alla folla un dito insanguinato sul suo viso mezzo brillo sembra esserci scritto me la pagherai furfante ma il dito stesso sembra uno stendardo di vittoria in quest'uomo o ciumeloff riconosce l'orefice kiryukin in mezzo alla folla con le zampe anteriori distese sta alla causa dello scandalo un cucciolo ad evriero bianco col muso affilato e una macchia gialla sulla schiena nei suoi occhi lacrimosi c'è un'espressione di tristezza e di spavento che diavolo è successo qui domanda o ciumeloff tagliando la folla perché qui e tu con quel dito chi ha gridato io vostra nobiltà camminavo senza toccar nessuno comincia kiryukin tossendole il pugno andavo a parlar della legna con mitri mitrici e ad un tratto questo vigliacco senza nessuna ragione mi prende il dito scusatemi io sono un uomo che lavora io faccio un lavoro fino mi debbono indennizzare perché questo dito non lo potrò muovere per una settimana questo vostra nobiltà non c'è nella legge che si debba sopportare da una bestia se ognuno si mette a mordere allora è meglio non vivere a questo mondo bene dice o ciumeloff severo tossendo e muovendo le sopracciglia bene di chi è il cane non lascerò passare la cosa davvero ve lo farò dire io di lasciarmi i cani sciolti è tempo di rivolgere l'attenzione a questa gente che non vuol piegarsi ai regolamenti quando avrà la multa il furfante lo vedrà bene cosa vuol dire il cane e altre simili bestie vagabonde gli farò vedere io corpo di un demonio il dirin ispettore si volge al gendarme informati di chi è il cane e mettilo in contravenzione e quanto al cane bisogna sopprimerlo senza indugio certamente è idrofobo di chi è questo cane domandò deve essere i cane del generale zigaloff dice qualcuno dalla folla del generale zigaloff toglimi il pastrano il dirin è terribile come fa caldo forse sta per piovere una cosa però non capisco come ti ha potuto mordere o ciumeloff si rivolge a kiryukin che forse ti arriva al dito è piccolo e tu sei un pezzo d'uomo tu forse ti sei scorticato il dito con un chiodo e poi ti è venuta in testa l'idea di dire una bugia tu tu lo so che gente siete voi altri diavoli lui vostra nobiltà con la sigaretta gli ha bruciato il muso per scherzare e il cane non è mica scemo taffete l'ha morso è un caposcarico vostra nobiltà tu menti guercio non hai visto e così per nulla perché inventi il signor ispettore è un uomo intelligente e capisce chi mente e chi parla in coscienza come davanti a dio se io dico una bugia lo giudicherà il pretore la legge da lui parla chiaro ora tutti sono uguali anche mio fratello e gendarme se volete sapere non far troppi ragionamenti no non è il cane del generale osserva il gendarme con profonda gravità il generale non ne ha di così fatti lui ha soltanto dei bracchi ne sei sicuro sicuro vostra nobiltà anch'io lo so il generale ha soltanto dei cani di valore di razza e questo qui chissà che diavolo è nel pelo nell'aspetto una porcheria soltanto tenere un cane simile dove avete il cervello che si incontrasse un cane come questo a pietroburgo a mosca sapete cosa succederebbe non si guarderebbe a leggi ma sul momento chi si è visto si è visto tu kiryukin hai sofferto e non lasciar cadere la cosa bisogna che la gente impari e ora ma forse è del generale pensava ad alta voce il gendarme sul muso non lo porta scritto qualche giorno fa ne ho visto uno così è del generale sì sì dice la voce della folla è il dirincaro aiutami ad infilare il pastrano si è levato un po di vento o i brividi tu portano dal generale e informati lì dirai che l'ho trovato io e glielo ho mandato e di che non lo lasciano andare per la strada forse è un cane costoso e se ogni sudicione si permette di ficcargli la sigaretta accesa sul muso ci vuol poco a rovinarlo il cane è una bestia delicata e tu babbeo giù la mano non c'è bisogno di mettere in mostra il tuo stupido dito la colpa è tua ecco ecco il cuoco del generale che viene da queste parti gli si può domandare ehi procior vieni qui un momento caro guarda questo cane è vostro ma che non ne abbiamo avuti mai così non era neppure il caso di domandarlo dice ucumelov è un cane randagio c'è poco da discorrere se ho detto che è randagio è randagio sopprimelo e basta non è nostro continua procior è del fratello del generale che è arrivato poco fa al generale non piacciono i levrieri ma il fratello ha un gusto diverso è arrivato dunque il fratello del generale vladimir ivanic domanda ucumelov e tutto il suo viso si irradia di un sorriso di beatitudine signori dio e io che non lo sapevo è venuto per un pezzo sì per un pezzo dio mio aveva desiderio di vedere il fratellino e dio che non lo sapevo allora il suo cagnolino ho piacere prendilo è carino il cagnolino è così furbo zaffete e acchiappa il dito e tu perché tremi si arrabbia il frufantello cocco bello procior chiama il cane e si allontana con lui dal deposito di legname la folla ride di ciriukin quanto a te ci rivedremo gli dice in tono di minaccia ucumelov e abbottonandosi il pastrano prosegue il suo cammino per la piazza del mercato